Il reperto clinico ha una valenza, sia clinica che medico-legale, rappresenta un mezzo di studio di condivisione tra professionisti, pertanto andrebbe redatto univocamente da parte di tutti gli ortodontisti. Per tale motivo propongo un modello di reperto clinico. Se siete d'accordo potete scaricare gratuitamente il pdf che troverete in descrizione o in alternativa potete ben proporre alcuni adattamenti.